Com'è il Presidente Riccardo Breda, Presidente della Camera di Commercio di Livorno e di Grosseto? Buongiorno Presidente. Buongiorno, oggi abbiamo firmato questo protocollo, un importante risultato di un lavoro che è partito anni fa con la Camera di Commercio di Livorno, oggi è stessa anche a Grosseto e quindi questo protocollo è intesa che naturalmente va a tutela della legalità. Il sistema dell'immobiliare, quindi sia dell'agente immobiliare ma soprattutto del consumatore, oggi tanti consumatori si rivolgono a agenti immobiliari improvvisati, questo naturalmente può metterli in difficoltà proprio nell'affare che vanno a concludere, quindi utilizzare un agente immobiliare che ha una professionalità è fondamentale, fondamentale perché si protegge appunto la categoria da un abusivismo ormai più inaccettabile e si eleva la professionalità anche dell'agente stesso, quindi un protocollo importante firmato con tutte le associazioni, ora dobbiamo essere bravi a dare una grande comunicazione. Grazie mille Presidente.